Per il ciclo a qualcuno piace Kalt Una caserma praticamente perfetta Se non fosse per la squadra 17 Farò di loro dei veri uomini Dai ragazzi, passiamo di vedere chi è la squadra 17, ok? Ok Stai qui là, c'è uno schettone, non c'è nessun pericolo Si spandano in tutto Un incendio dolore Straversi l'acqua Io sono tu, sorpresa Villaggio, Banfi, Boldi, De Sica, i pompieri Stasera all'eventuro con Iris